uh griffon joe e la mia acqua perchè sto morendo morendo ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video oggi vi faccio vedere il mio quasi tutto shopping dei saldi vi dico quasi tutto perchè mi manca una cosa però ho deciso che vi farò due video haul per quanto riguarda i saldi e con questo ho detto tutto questo video haul sarà per quanto riguarda i saldi d'abbigliamento accessorio eccetera e mentre poi farò un altro dove invece vi faccio vedere le cose per quanto riguarda il make up perchè era da un sacco che non compravo make up perchè di solito col fatto che me ne spediscono a quantità industriale insomma cerco di evitare però coi saldi che vuoi non ti compri qualcosina e quindi dividerò appunto queste due categorie ci tengo a specificare una piccola piccola insignificante cosa che non so se i vestiti ve li farò vedere indossati oppure no perchè sono davvero tantissimi tantissimi io penso di aver speso onestamente tutto il mio stipendio per quanto riguarda questi saldi in particolar modo cioè davvero ho fatto una strage infatti iniziamo subito perchè ho paura che questo video vada a durare tipo mezz'ora 40 minuti sono più che certa di questo comunque iniziamo subito con i negozi fisici a cui sono stata perchè poi ci sono anche quelli online quindi il primo che vi faccio vedere è Bershka mentre ero lì a fare gli esami a finire di fare appunto l'orale sono stata in un centro commerciale lì a Napoli che adesso non mi ricordo come si chiama comunque c'era Bershka quindi siamo andati e ho preso allora una maglia lunga che utilizzerò sicuramente come camicia da notte pigiama insomma così costava 10 euro l'ho pagata 8 quindi insomma vabbè quel che è ed è fatta in questo modo bianca con questa scritta fluo con scritto mojito che per chi mi conosce sa che io sono astemia non bevo proprio di niente però ho detto chi se ne frega cioè ci devo andare a dormire e era l'unica quindi l'ho presa ed è tutta lunga 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 così e poi invece ho preso questo maglioncino che sono davvero entusiasta di aver preso perchè mi piace un casino io vabbè sapete che mi vesto prettamente con colori molto molto basici quindi ho preso questo maglioncino a righe bianche e nere fatto a crop top quindi era super particolare e costava 18 euro io l'ho pagato 13 ed è fatto in questo modo qui zan 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 naturalmente con le maniche lunghe ed è di questo tessuto insomma maglioncino tipo fatto a uncinetto mi piace un casino non vedo l'ora di usarlo poi altro negozio fisico in cui sono stata è H&M sia online appunto che sono stata in negozio quindi prima vi faccio vedere le cose che ho preso in negozio sono due cose in realtà molto semplici anche qui perchè ultimamente mi trovo meglio online strano ma vero e infatti ho preso questa borsettina che avevo visto anche sul sito però non mi regolavo con la misura quindi l'ho trovata in negozio a 7 euro e l'ho presa è nera e leopardata come vi dicevo prima nero è uno dei miei colori preferiti però ho detto sai a volte magari mi resto soltanto di nero ci metto questa borsa picca un po' di colore tra virgolette e quindi questa qui semplicissima con la tracollina e l'ultima cosa è questo bomberino però è un bomberino molto leggero davvero è un tessuto molto 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 confortevole costava 30 euro l'ho pagato 10 euro cioè quindi vogliamo mettere ed è fatto in questo modo di questo bordò insomma un bel colore e poi classico modello bomberino questo andrebbe visto indossato perchè così non si capisce nulla però insomma avete capito più o meno e ora passiamo ai negozi online c'erano un sacco di sconti sull'applicazione ma davvero un sacco di sconti e quindi ho avuto un po' il click facile come dire ed ho preso come prima cosa questa che è sempre un crop top di vellutino una magliettina fatta in questo modo sapete di quelle che vanno adesso con una maglietta sotto a maniche corte bianca e poi ci va sopra questa ecco mi piaceva davvero tantissimo adesso vi vado a riaprire sull'applicazione e così vi vado a vedere i prezzi questa qui da 15 euro l'ho pagata 7 euro quindi stava al 50% poi ho preso quest'altra magliettina che è l'unica cosa l'unica che mi sono già messa però insomma mi piaceva troppo troppo ed è sempre fatta crop top mi sono leggermente fissata ed è grigia con questa stampa di questa tigra e i fiori è bellissima è super comoda è anche molto molto fresca devo essere sincera infatti se ci fosse stata in altri colori l'avevo presa questa stava a 13 euro l'ho pagata 7 euro poi ho preso questo paio di jeans che vi dico subito quanto costano costavano 40 e io li ho pagati 20 quindi anche questi è il 50 il modello si chiama Relaxed Skinny sono a vita abbastanza alta hanno questo lavaggio chiaro sulle ginocchia hanno uno strappo e poi in realtà cascano abbastanza larghi nella parte sotto quindi credo dovrò farci un orlo però ecco questi sono abbastanza pesantini quindi per l'inverno vanno molto meglio che per ora questo maglioncino perché sì ho preso cose anche comunque invernali perché sempre con il fatto che adesso ho un'altra taglia diversa insomma da prima per l'inverno ho soltanto cose larghe quindi mi sono presa questo maglioncino è basicissimo davvero basico grigio così un po' melangiato e questo qui stava a 20 euro l'ho pagato a 12 euro quindi è una cosa super fattibile poi sempre parlando di felpe ho preso questa che è militare però vedete che è particolare con questi inserti un po' su rosa ed è sempre fatta a crop top ed ha anche il cappuccetto questa mi piaceva un sacco l'ho vista anche il negozio in realtà stava più scontata che sul sito ma ormai vabbè l'avevo presa e l'ho pagata 14 euro e stava a 20 poi ho preso questa camicetta che in realtà è una camicetta basicissima nera però io sapete che non ha uno stile ben definito cioè a volte magari mi è sto più elegante a volte è un po' più street style insomma cambio a seconda dell'umore e delle cose che devo fare e quindi ho preso questa camicettina che è proprio semplicissima nera con i bottoncini qua sul davanti ha le maniche lunghe però nel contempo è abbastanza leggerina come tessuto e questa qui stava a 20 euro l'ho pagata a 14 e poi l'ultima cosa che ho preso dal sito dall'applicazione sono queste ciabattine che in realtà non sono ciabatte perché comunque sono scarpe per uscite insomma quotidiane normali e mi serviva un paio di queste perché sono molto comode c'è te le metti proprio come se fossero ciabattine e ho trovato queste che io già avevo puntato prima dei saldi poi sono state scontate che fai cioè le lasci lì dai amori cominciamo che fai le lasci lì e queste qui stavano 25 euro le ho pagate 17 sono tipo stracomode è una cosa troppo bella tra l'altro con questi saldi mi sono molto ma molto contenuta sulle scarpe perché sapete che è il mio tallone da kill ma devo essere sincera appunto sono stata bravissima poi passiamo agli ordini online di asos che non potevano mancare in realtà ho fatto due ordini da asos ben distinti l'uno dall'altro perché naturalmente prima ondata di saldi ho preso qualcosa seconda ondata di saldi peggio mi sento e quindi ho due pacchetti a farvi vedere li ho già divisi si li ho già divisi quindi partiamo dal primo e parto proprio da un paio di scarpe tra virgolette ma queste sono ciabattine proprio sono troppo carine anche queste le avevo già viste sul sito poi che fai l'hanno messa in saldo non le compri certo e poi adesso vedrete perché l'ho comprata perché insomma se mi conoscete sapete la mia passione folle incondizionata incontrollata delle sirene e quindi ho dovuto assolutamente prendere queste ciabattine le ho pagate 13,50 aspetta forse così ok come vedete c'è scritto mermaid che vuol dire appunto sirena e sono di questo colore che è il mio colore preferito quindi come potevo lasciarle lì queste naturalmente sono più scarpe da mare piscina però devo essere sincera sono fatte davvero bene 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 anche quelle le ho già indossate perché non potevo aspettare poi ho preso questa giacchina che ho pagato soltanto 13 euro cioè raga 13 euro è una giacchina color khaki color verde militare troppo carina ha questo cut out sulle spalle fatto in questo modo vedete e poi ha la manica lunga perché insomma naturalmente è una giacchetta con questo dettaglio qui e poi è fatto in questo modo è abbastanza squadrato ed è fatto a crop top questo assolutamente così non si capisce perché è proprio troppo carino indossato insomma è da vedere adesso io vi apro la foto sull'applicazione così si capisce un po' meglio cioè e prima questa giacchetta stava a 45 euro cioè non so se ci capiamo ultima cosa che ho preso con l'ondata dei primi saldi sono questi pantaloni della tuta arancione se avete visto uno degli scorsi video haul perché questo mese è un po' esagerato questo mese è l'altro mese con i video haul ho fatto pazzie ho comprato da Zara una felpa sempre arancione ma ho notato che l'arancione mi sta bene quindi io continuo a comprare questa arancione e mi mancava però la parte sotto della tuta anche se non è lo stesso arancione quindi credo non li metterò insieme però comunque sia è troppo figa lo stesso ed è fatta benissimo ed è troppo bella troppo comoda e questa l'ho pagata a 17 euro ho preso questo vestitino che ho pagato 12 euro e 50 adoro questi colori e anche questa c'ha il cut out ah non l'avevo visto c'ha il cut out qua sulla spalla molto bene è sempre a manica lunga però ha un tessuto molto 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 leggero è stretto in vita e cade giù abbastanza larghetto anche questo non si capisce purtroppo mi spiego un sacco vi faccio vedere la foto anche di questo ma più o meno si capirà chi lo sa ma non si vede niente da là quindi che ci sto provando non ho ancora capito comunque questo poi ho preso una felpa anche questa indovinate com'è indovinate esatto è fatta a crop top non so perché ho questa fissa momentanea che a me non mi piace andare nero capanzate fuori anzi quindi cerco sempre di bilanciare noi sotto col sopra ed è fucsia come vedete mi sono anche impegnata a prendere qualcosa di più colorato al solito ed è troppo bella troppo morbida e appunto è una semplicissima felpa col cappuccio però ripeto fatta a crop top c'è scritto qui che è di Bershka molto bene e questa l'ho pagata solo 12 euro cioè praticamente io non vedo l'ora arrivi l'inverno ma dovrò aspettare un pochino mi sa e poi ultima cosa di Atos ho preso questi pantaloni che sono abbastanza skinny ma sotto hanno la fine abbastanza ampia anche di questi vorrei farveli vedere bene nella foto ma non si capisce li ho pagati 14 euro sono di questo blu praticamente sono stata bravissima perché manca soltanto rullo di tamburi il mega pacco di Zara le prime cose che ho preso è questa borsa che ho pagato udite udite soltanto 13 euro cioè 13 euro ed è una shoppers guardate che bella azzurra cioè ho sempre avuto una borsa di questo colore e ho trovato questa che è bella grande bella ampia ed in più anche la cerniera quindi è super comoda e adesso non è neanche il pezzo forte perché ho trovato uno stivaletto a 13 euro cioè raga adesso io vi faccio vedere questo stivaletto ditemi se sembrano pagati 13 euro cioè io voglio dire no voglio dire a parte lo stile che mi piace un casino lo sapete ultimamente io stivaletti siamo una cosa sola però il colore è questo grigio fumo grigio topo grigio qualsiasi cosa di più bello al mondo non esista ed è troppo bello qui alla cernierina allora contate vi racconto questa breve storiella che i saldi sull'applicazione di Zara sono iniziati alle 10 non mi ricordo il giorno comunque alle 10 io alle 10 e 1 stavo già sul sito quindi naturalmente di tutto quello che mi poteva piacere c'erano tutte le taglie e quindi fortunatamente sono riuscita a prendere anche questi perché di solito la mia taglia 40-41 insomma è la prima che se ne va via e quindi stavolta bam e ora cerchiando di prendere il mega pack guardate quanto è grosso vi faccio vedere anche l'abbigliamento contate che da Zara forse ho preso le cose più carine perché sono cose che già puntavo ma non sull'applicazione che avevo salvate ma proprio dal negozio il pezzo più carino ve lo lascio alla fine perché perché sì è da pregustare quindi prima vi faccio vedere le altre cose allora prima cosa è questa camicetta che io mi ero provata in negozio mi sono innamorata ed è strano perché comunque questo genere di capi solitamente non è che mi attiri più di tanto ma mi è piaciuto così tanto che l'ho vista sul sito era scontata quindi che fai non la prendi e questa qui vi posso dire costava 45 euro questa camicetta e io l'ho pagata 25 cioè 25 ha questo ricamo qua sul davanti tutto colorato e poi ha le maniche semi trasparenti vedete questa particolarità di avere tutti questi tipo pua però vedete come è svolazzante è bellissima poi altra magliettina ho preso questa che invece è un po' più vedete come passiamo dal sofisticato alle cose un po' rudi così ed è una maglietta grigia questa secondo me con quegli stivaletti in stack è una bellezza ed è fatta così con tutti questi strappi ma la particolarità è che tra lo strappo e la maglietta ci sta tipo un velo nero non so se lo vedete da lì si può mettere anche magari d'inverno mia sorella appena l'ha vista mi fa lo sai che non è Halloween e io dovrei ridere e vabbè sono gusti sono gusti questa qui invece l'ho pagata 12 euro cioè wow per chi conosce i prezzi di Zara capirà poi ho preso questa che purtroppo mi è arrivata praticamente non dico rotta però c'è un filo tirato essendo una maglia completamente di tulle però è un tulle bello pesante insomma si nota però vabbè comunque si insomma la metterò lo stesso ecco forse così si vede perché ci deve essere la pelle sotto vedete c'è questo strappo ed comunque è una maglia tutta di tulle ha maniche lunghe nera ed ha tutti questi vari volant ne ha uno sotto il seno uno sopra la pancia e poi dietro ha tipo uno strascico è molto particolare così bella bellissima ragazzi si capisce davvero tanto però mettermi a zoomare a ricosare insomma ci mettiamo gli anni sempre tipo lo stile vi ricordate vi ho fatto vedere prima quella di vellutino di H&M ecco però questa qui ha già una maglietta incorporata e mortacci adesso che ho visto il prezzo perché io ho preso senza guardare più di tanto quanto cacchio l'ho pagata cioè alla fine è una cosetta abbastanza basica è una magliettina vedete sotto già incorporata nera e sopra ha questo top e mi piaceva un sacco l'unica cosa è che io penso ci andrò a tagliare questa maglia che c'è sotto perché mi dà proprio i nervi l'ho pagata 15 euro poi ho preso questa gonna anche questa color cacchi questa l'avevo già puntata in negozio infatti sono stata felicissima dietro all'elastico e invece davanti è fatta così e poi ha tutte queste pieghe plissature e qua ha lo spacco dov'è? eccolo qua insomma è una di quelle gonne belle larghe che sapete che io d'estate ci vado proprio a genio costava 30 euro e l'ho pagata 15 poi ho preso questa maglia fatta a choker che è fatta tutta a costine non so se si può notare vedete che è un choker bello cicciottello quindi non vedo l'ora di metterla che è a maniche lunghe perché ancora non avevo una maglia fatta a choker a maniche lunghe ed è però fatta sempre abbastanza cortina non è proprio crop top però è una sottospecie e questa qui l'ho pagata 8 euro e poi il rullo di tamburi ultima cosa che puntavo da una vita sapete che mi sono fissata con i giacchetti di pelle e già qui avete capito ma da Zara ce ne sono diversi anche in diversi tessuti però io volevo il giacchetto di pelle e quindi ho preso questo bianco c'era anche rosa però bianco ho pagato 35 euro da che costava 60 quindi soddisfatta di me stessa ve lo faccio vedere anche se non si capirà una cippa lippa ma è fatto così è molto pesante cioè proprio pesante è bianco con le cuciture nere non so se riuscite a vederle all'interno è a righe quindi è troppo figo anche solo da vedere in questo modo e poi è comunque cortina insomma ha tutte le varie cinghie ancora incartato perché ripeto come lo mettevo proprio no e questo è tipo l'acquisto top di questo video haul e in più tutta la massa di roba che ho qui che adesso solo al pensiero che io mi devo mettere a sistemarla ho un mancamento ma comunque spero questo video primo video haul dei saldi perché ricordatevi uscirà anche il video haul dei saldi make up posi che sono sicura interesserà anche tantissime di voi spero comunque questo vi sia piaciuto se è così thumbs up e iscrivetevi se ancora non lo siete vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.